ciao ragazze ho fatta una mini spessuccia dal leader magari ve l'attacco a un'altra spesa quindi andiamo a vedere le spese che ho fatto allora ho preso questo pane qui filoncino di pane con i semini di sesamo poi ho preso questo pane qui che è il mio preferito e quello al sesamo no il sesamo al grano saraceno con le noci è buonissimo ragazze non potete sapere che passione che ho per questo pane fa un grassare però meglio due box di sushi anche questa era un'offerta e il sushi dell'id c'ha dentro già la soia il vasabi non so se riuscite a vederlo e lo poi ho preso questo succo qui questa sì una specie di frullato mela kiwi deve essere una cosa una po una centrifuga mela kiwi me mela kiwi mango banana ananas e lime e poi questo invece che è mix di frutti anche questo mela uva banana guava rosa poi ho preso questo qui che è lo spray mousse alla candeggina 99 centesimi conviene molto più di quello che si compra della dell'ajax non mi ricordo che insomma che costa di più poi ho preso questi due filetti di sgombro grigliati al peperoncino due erano in un box lì da una parte e poi ho preso il latte di soia naturale questo qui al bio e poi ho preso guardate che carina sta maschera dorata questa qui è di questa marca qui made in italy acti maschera idrogel maschi illuminante oro 24 gold 24 carati effetto antietà anti age effetto naturale termoscientifico stato traspirante tessuto di idrogel una maschera vediamo un po dietro che c'è scritto per un'azione decongestionante d'urto mettere la maschera in frigorifero per 10 15 minuti prima dell'applicazione non ci penso neanche perché poi voglio di freddo già sono ghiacce queste maschere no vabbè comunque va vedete va messa va tenuta quanto va tenuta è un po se ci riesco a leggere sono anche gli occhiali qui comunque vi c'è scritto va tenuta dai 14 dai 15 a 25 minuti massimo e quindi si proverà anche questa maschera ok e niente poi hanno regalato questo cosino qui che non so cos'è sticker sono stickers di quelli carini con la ventosa e poi ho presa l'acqua si ho presa l'acqua eccola la niente ciao ciao salite le tate alla prossima spesa che magari dopo questa vero tate dopo questa la trovate in altra spesa perché la mia tata non la mette una spesa piccola così ne mette attaccata un'altra ciao 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 nuova mini spesa ragazze sapete che faccio le spese dell'attacco una a quell'altra stava ieri sera fatti muffin questo è il risultato con la ricotta sono venuti squisiti allora faccio vedere che cosa ho preso pochissime cose però l'attacco a quest'altra allora ho preso il caffè per la mia macchinetta so se vi può interessare oddio che male ho preso questo questo passa qui che sono capsule praticamente così aspettate dicevo che sono capsule così vedete il caffè questo è per questa macchinetta qui che è la 1 io so con la 1 della della hot point a risto ok poi ho preso anche qualcuno che sta a guardare in delle case delle capsuline sciolte così di una decina hanno preso di deca decaffeinato perché ogni tanto io pomeriggio lo prendo la mattina prendo quello buono ma poi il pomeriggio a volte se ho bisogno del caffè e se no poi dopo non riesco a dormire mi prendo già mi agita troppo e quindi allora poi ho preso il sale qui sono invece sono natale rospino per il sale grosso e per questa specie da qui ho speso 7 euro quindi buona perché insomma non ho speso un gran che ho comprato anche poco però è preso questo risotto qui da fare funghi veloce 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 e poi ho preso il burro che hanno finito la pasta questa qui delle le penne integrali però hanno preso un pacco solo mi manca in realtà mi manca tanta pasta però sinceramente all'aerospin la pasta a me non non è che mi piace un gran che e poi ho preso il bicarbonato di sodio e il grattugiato il parmigiano grattugiato i pomodorini che erano guardate che belli hanno un profumo che vi farei sentire troppo buono proprio di pomodoro proprio fresco e erano c'erano le queste belle cassette appena arrivate piene di questi pomodori qui a grappolo 7 79 centesimi il chilo quindi era molto conveniente c'erano anche le fragole a 79 centesimi al chilo c'era gente che ne aveva fatta una scorta io sì le fragole ogni tanto le compro però non è che si amano un gran che in casa in casa nostra e poi ho preso il sale fino tutta questa spesettina qui ho speso 7 euro un po ho speso più di caffè perché ha già speso 14 euro di caffè quindi niente ragazze io e chicco vi salutiamo e magari dopo questa ne troverete un'altra di spesa non mai faccio svuota spesa bis o tris lancio una nuova moda io cosa c'è chicco cosa ti gratti da che c'è qualche pucetta bisogna dare subito il cosino la la fialettina qua è la fialettina qua e bisogna dare la odia quella che fialettina li scappa sempre quando gliela do vero amore vero qui vedi qui dietro di dietro vedete scappa subito spesa si è lunga allora vabbè la cartegianica credo che non vi interessi però questo qui era scontato e ho preso il sono con angoli singolo c'era blu e rosa celeste poi c'era un sacco di lenzuoli tante cosine tante tovagline un sacco di cosine belline come ecco come fiera del bianco c'era tutte queste cosine belline belline che ci avrei speso mutuo ma non si può poi ho preso questo cioè questi l'ho presi me l'hanno dati in base alla spesa credo che ti dassero questi super food foodies foodies che ora li darò a qualche amico di mio figlio che c'ha c'ha bambini piccoli poi questo banane mettiamoli qua poi ho preso la pasta questa qui molisana ho preso il il formaggio grattugiato, il prosciutto cotto, questo qui bello e magre, poi il salmone che in casa mia non deve mai mancare il salmone affinitato, mi piace troppo, le patate che stasera le farò al rosso, i panini questi qui con i semini, poi ho preso due bottiglie di passata, una è qui e una è qui, poi ho preso i miei cereali prefe del cuore, equilibrio cioccolato fondente, sono integrali, poi ho preso le tostatine dalla cioccolata, poi un pezzo di bella focacciona, bella sostanziosa, dei panini tipo così a frustina, poi ho preso un bel pezzo di tacchino da fare al rosso stasera, e poi ho preso questi che sono i gran cereali, erano in offerta, questi qui costano cari, anche quelli alla cioccolata, poi ci sono altri gusti, costano più di 3 euro, invece questi erano a 1 euro e 44 mi sembra, non mi vorrei sbagliare, insomma questi qui sono quelli classici, erano scontati, poi ho preso tre di questi per il mio gatto, perché ora andando via bisogna che lasci qualcuno che gli dà da mangiare, e se non c'è questi qui belli pronti si stufa, me li fanno morire di fame, tra mi madre e mi figliolo con c'è mai, insomma vedremo, e poi ho preso i sciocco grano, poi vabbè l'acqua naturale della Sant'Anna, che la vedete qui insieme al gatto, e noi vi si saluta lì, la spesa è finita, amore, ciao, 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 buongiorno, guardate il corriere cosa mi ha appena lasciato, la look fantastic di maggio, magari la apriamo dopo insieme, perché adesso... Allora ragazze, vi faccio vedere velocemente, un po' più da vicino, perché su Instagram ho fatto una cosa veloce, quello che ho trovato nella look fantastic, allora il settiman... no, mensile, mensile L, poi vediamo, vediamo cosa c'era, l'ho aperta alla rovescia, l'ho aperta, insomma, allora, intanto c'era questa matita labbra che ho già provato, direi che mi piace anche, perché è bella morbida, è un color nude un po' chiarino, eh, per i miei gusti, però, però ci sta, dai, di questa marca qui, che è, boh, però è madincina, ragazze, niente di questo, ecco, mellow, mellow, ok, poi, poi ci ho trovato, dunque, allora, vi faccio vedere questa cremina qua, che è, dunque, me lo sono scritto un pochino, perché è una cremina per il viso, ricca di antiossidanti, proprietà antiossidanti, c'è la vitamina C, è derivata da un'oliva siberiana, che è un arbusto ricco di 108 elementi biattivi, è anti-inquinamento, antiossidante, come ho detto, estratto di bacche polari naturali, 100%, favorisce la luminosità e rigeneramento cellulare, la proverò e poi vi farò sapere di questa marca qui, vediamo un po' se mette, ecco, polar, poi, questo, che credo di aver capito, perché vi dico che qui è scritto tutto in inglese, bisogna star lì e tradurre, io penso che sia un'auto abbronzante questo, se ho capito bene, gradual, tanto colore extend, perché se fosse un solare ci sarebbe la protezione, qui la protezione non c'è, quindi anche questo vedo l'ora di provarlo per vedere, vedete, qui c'è la foto, cioè fa vedere che piano piano non si abbronza, certo non lo proverò sul viso perché non mi fido, e lo proverò sul corpo e basta, poi, questa crema qui invece, di questa marca qua, Avant, e questa è un siero, questo, è un siero viso con l'acido ialuronico antiossidante, quindi anche questa la proverò e vedremo, Vinci non ve lo so dire perché non me ne intendo, ve lo faccio vedere, ma chi interessa, non credo che sia un granché, poi, questo, che è per i capelli, è una maschera della vella, per i capelli, è per nutrire, mi pare di aver capito, c'è anche scritto, metti a fuoco, porca miseria, nutri, qui, c'è scritto di tenerla su 10 minuti, 15 minuti, vedete, c'è anche la figurina dopo aver lavato i capelli e quindi dopo lo shampoo, e per ultimo, ma non per ultimo, come importanza, ci sono questi patch che sono idrogel, glow idrogel illuminanti, per illuminare la parte delle occhiaie, idratare e rinfrescare per pelli delicate, sto leggendo, è un po' quello che c'è scritto, anche qui c'è l'acido ialuronico e sono proprio dei patch da mettere qui, insomma, sotto, tra lo zigomo e le occhiaie, ecco, un pezzettino così. E niente ragazzi, questa era la Look Fantastic e io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, un bacione, ciao, ciao, un bacione!